Da anni è sinonimo di cultura e ricerca, è l'Associazione Terra di Mezzo di Biccari, che ogni anno organizza serate di approfondimento letterario, storico ed artistico. Ieri sera, presso la Sala Bollenti Spiriti, si è tenuta la presentazione del nuovo catalogo dell'Antologia Culturale Biccarese, volume 8, una raccolta degli atti relativi all'annata culturale 2016. In questa stessa occasione è stato presentato anche il libro Historia del Pubblico Fonte di Biccari, dell'autore di sagge e storico biccarese Giuseppe Osvaldo Lucera, sulla storia dell'acquedotto comunale di Biccari e della fontana monumentale di Piazza Matteotti. Alla presenza del sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, che ha scritto anche la prefazione alla pubblicazione, sono stati esaminati nella serata alcuni passaggi del testo, citando le ricerche e le fonti che hanno portato alla stesura dello stesso. È stato trattato in serata anche il tema della privatizzazione dell'acqua pubblica, contro cui il sindaco si è a lungo battuto, anche attraverso una petizione popolare che ha raggiunto ottimi risultati, incassando perfino il consenso del sindaco di Napoli, De Magistris. A tal proposito è stato presentato anche un nuovo progetto, la riapertura al pubblico del vecchio acquedotto di Biccari risalente al periodo borbonico, molto probabilmente nella prossima primavera, in contemporanea all'apertura del Parco Avventura. L'acquedotto si è svelato infatti alle indagini sul posto, un luogo delle molteplici sorprese, corridoi lunghissimi ed alti circa due metri, ed anche piccoli stalattiti, all'esame degli speleologi. Ciò potrebbe costituire una nuova attrattiva per storici ed appassionati, afferma Mignogna, o per i sempre più numerosi visitatori della nostra montagna, nonché far aumentare le occasioni didattiche e culturali presenti in questa parte dei Monti Dauni.